Un attimo! Mi sono sbagliato, mi sono sbagliato a detto dell'altro. Non trovavano un taxi libero. E così mio padre mi chiamò dalla strada. Marshall! Sembra che voglia mettersi a piovere. E io però non sono riuscito a trovare neanche un ombrello in casa tua. Ah, ma volevo dirti, sai chi è molto probabile che ne abbia uno? E allora, beh, mio padre è cresciuto in una piccola città ed è di un'altra generazione, quindi a volte assolutamente in buona fede dice cose di questo genere. I coreani che abitano sul tuo pianerottolo. Sì, i coreani sono tutti molto generosi, delle gran brave persone. Papà! Scommetto che uno di quei coreani un ombrello ce l'ha. E che cavolo sono coreani!